Il Premier Letta preferisce il 5TO di Twitter alla sala stampa di Palazzo Chigi per annunciare che l'accordo politico sull'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti è stato trovato. Ai tecnici della ragioneria aspetterà ora trovare la formula per trasformare l'intesa in un provvedimento normativo. Il disegno di legge, oltre all'abrogazione delle norme vigenti, dovrebbe prevedere procedure rigorose in materia di trasparenza di statuti e bilanci dei partiti, la semplificazione delle procedure per l'erogazione da parte di privati cittadini, l'introduzione dei meccanismi di natura fiscale, il sostegno non monetario al funzionamento dei partiti in termini di strutture e servizi. Nel prossimo Consiglio dei Ministri, spiega invece il responsabile dello sviluppo economico, saranno approvati gli ecobonus al 55% e gli sgravi al 50% per le ristrutturazioni edilizie. In questa riunione il Governo ha comunque deciso la proroga per tutto l'anno. stabilito inoltre che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero, scadenza anticipata di due anni per gli edifici pubblici. Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'accordo fra l'Albania, la Grecia e l'Italia sul progetto della costruzione del nuovo gasdotto. Il Governo ha infine autorizzato il Ministro dell'Economia a erogare anticipazioni sulle aspettanze relative al Servizio Sanitario Nazionale in favore delle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Sicilia. Per il Molise si tratta di 63 milioni di euro.